ok benvenuti a tutti questa è la serata occhi ai giganti dedicata alla congiunzione che si verificherà tra qualche giorno tra Giove e Saturno prima di iniziare come al solito voglio fare innanzitutto ringraziare tutti voi che siete collegati via Zoom ci state un po' mettendo la faccia nel senso che avete la possibilità di partecipare con noi alla diretta saluto anche chi si collega su Youtube e su Facebook quindi Youtube il canale del gruppo Astrofili Savonesi Facebook invece alla pagina degli Astrofili Liguri Polaris ringrazio Franco degli Astrofili Liguri Polaris che si è messi in gioco e ha prodotto del materiale che poi vi farà vedere lui stesso ringrazio Alessandra la presidente degli Astrofili Polaris che ci parlerà di Giove e Saturno ringrazio Sandro del gruppo Astrofili Savonesi che è in cabina di regia con tutti i suoi computer e monitor che segue e manda tutte le dirette e prima di iniziare vi faccio una breve scaletta della serata vi farò vedere prima un paio di video poi passerò la parola ad Alessandra che vi racconterà qualcosa su questi due giganti che sono un po' i protagonisti della serata poi la parola tornerà a me e giocheremo un pochino con un software di planetario virtuale che è Stellarium chi ci segue ha già visto come funziona e che cosa facciamo e cercherò di raccontarvi un pochino la congiunzione vista in maniera artificiale digitale dopodiché darò la parola a Franco che ci farà vedere quello che è riuscito a fare negli scorsi giorni perché in realtà questa sarebbe la serata osservativa astronomia dal balcone ma la congiunzione non è più visibile perché è già tramontata i pianeti si stanno avvicinando a parte che la congiunzione non è nemmeno oggi però noi approfittiamo di questo venerdì per raccontarvi quello che sta succedendo nel cielo chiuderemo con un ultimo video e poi ci saluteremo ora, bando alle ciance vi faccio vedere subito un simpatico video di Franco che stava preparando tutti i suoi amminicoli per andare per fare le riprese che poi vi farà vedere dopo questa è un po' la vita dell'astrofilo di giorno si prepara e alla sera e di notte poi si fanno le riprese le riprese sono state fatte dal suo balcone di casa Genova quindi con tutti i difetti che possono avere delle riprese fatte da una città insomma importante come Genova poi Franco ci racconterà meglio della strumentazione che sta usando tanto adesso la potete vedere così poi quando ve ne parlerà avete un'immagine di che cosa lui ha usato bene, il secondo video che vi voglio far vedere prima di partire con la presentazione di Alessandra è il video che è un video che ci racconta un po' almeno la formazione del sistema solare visto che stiamo parlando di due pianeti che fanno parte del nostro sistema solare ok? quindi ci sembrava doveroso presentarli un pochino dalle origini il nostro sistema solare si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa da una gigantesca nube di gas e polvere che pervadeva lo spazio ora occupato dal Sole dalla Terra e da tutti gli altri pianeti a noi vicini ovviamente non è più possibile vedere la nube da cui tutto ha avuto origine una devastante esplosione nucleare causata dalla morte di qualche stella a noi vicina ha dato il via alla formazione del Sole e del suo sistema planetario l'immensa forza originata dall'esplosione ha disturbato il precario equilibrio della nube di gas originaria causando il collasso gravitazionale della materia costituente la nube stessa la materia la materia collassando ha creato al centro la protostella che sarebbe poi divenuta il Sole e in periferia un gran numero di grumi che si sarebbero poi trasformati nei pianeti oggi conosciuti in altri termini i pianeti si sarebbero formati con quella parte di nube che non è servita al Sole per nascere i pianeti rocciosi più resistenti alle alte temperature dovute alla vicinanza del Sole si sono formati nel sistema solare interno mentre i grandi pianeti gassosi per alcuni aspetti ancora enigmatici si sono formati oltre la fascia degli asteroidi in zone più fredde dello spazio a seguito del continuo collasso gravitazionale il nucleo del Sole divenne sempre più caldo fino a quando non si innescarono le reazioni nucleari che ancora oggi mantengono stabile la nostra stella il sistema solare è nato con i suoi pianeti rocciosi con i suoi giganteschi pianeti gassosi e con i mondi ghiacciati dei pianeti lentari il telescopio spaziale Hubble ci ha offerto visioni mai viste del nostro sistema solare le aurorie boreali australi su Giove e su Saturno l'impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove avvenuto nel 1994 la Terra potrebbe stare comodamente in ciascuna delle ferite causate da queste collisioni nonostante ciò ancora oggi non si sa esattamente quanta materia faccia parte del nostro sistema solare e quanti siano i pianeti la nascita la vita la morte e la rinascita delle stelle continua di ciclo in ciclo le stelle nate da gas e polvere brillano per milioni miliardi di anni quindi muoiono ritornando gas e polvere da qui si formeranno nuove stelle nuovi pianeti e gli elementi necessari alla vita ok grazie dicevo passo la parola ad Alessandra che ci racconta qualcosa su questi due giganti Ale a te la parola benissimo allora io condivido lo schermo facciamo una piccola presentazione allora iniziamo occhio giganti parleremo di questi due appunto giganti del nostro sistema solare qui vedete già due bellissime foto prese dalle missioni la prima quella di Giove a sinistra dalle missioni Galileo e quella a destra di Saturno della missione Cassini no ok scusate ecco vorrei iniziare subito con una bellissima fotografia del nostro socio Luigi Pizzimenti di Polaris vicepresidente di Polaris che ha fotografato la congiunzione Giove e Saturno immortalandola sopra il monte di Madonna della Guardia il monte è alto circa più di 800 metri e qui c'è il santuario di Madonna della Guardia questa foto è del 14 dicembre qualche giorno fa e come potete vedere lo segno col mouse qui Giove e Saturno erano già abbastanza vicini e devo dire che Giove era molto luminoso fa quasi concorrenza alla luce su Madonna della Guardia è molto suggestiva questa fotografia andiamo avanti allora però dicevamo sono due giganti del sistema solare ma sono davvero giganti quanto sono grossi le dimensioni poi come tutto sono relative ecco qui una grafica che illustra le dimensioni dei pianeti del sistema solare in scala con il nostro sole e ci possiamo rendere conto di quanto siano veramente veramente piccoli rispetto al sole persino Giove e Saturno anche se sono questi due pianeti sono evidentemente molto più grandi degli altri i pianeti rocciosi a sinistra Mercurio, Venere, Terra e Marte quasi spariscono praticamente rispetto a questi giganti gassosi insieme a Urano e Nettuno sono i quattro giganti composti di gas del nostro sistema solare questo è un dettaglio un dettaglio che vediamo meglio per apprezzare di più le dimensioni relative tra i pianeti del sistema solare vedete da sinistra il terzo pianeta la nostra terra con una luna piccolissima microscopica e si vede già da qui che Giove è più grande di Saturno considerando Saturno senza anelli ovviamente e guardate dopo Nettuno i pianeti nani come appaiono minuscoli in proporzione in scala con il nostro sole ma dove si trovano Giove e Saturno? allora sono rispettivamente il quinto e il sesto pianeta del nostro sistema solare e con Giove inizia la grande dicotomia del nostro sistema solare ovvero la suddivisione dei pianeti in rocciosi e gassosi i primi quattro pianeti in ordine di distanza dal sole mercurio, venere, la terra e marte sono rocciosi cioè hanno una superficie solida su cui si può camminare o su cui può atterrare una sonda invece Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono chiamati i giganti gassosi perché non hanno una superficie solida ma sono composti esclusivamente di gas prevalentemente idrogeno ed eglio e quindi una sonda non può atterrare su questi pianeti ma può solo sprofondare nella loro atmosfera come in effetti è già successo per alcune sonde e ne parleremo più avanti allora qui vediamo una bellissima fotografia di Giove ripreso dal telescopio spaziale Hubble il telescopio che è in orbita intorno alla terra fuori dall'atmosfera a 400 km dalla superficie e quindi ci può regalare delle immagini già così dettagliate dei pianeti che sono impossibili diciamo con altri telescopi da terra vedete qua si apprezza già di Giove si apprezzano le bande atmosferiche i colori stupendi dal color cremisi al color marrone mattone si apprezza la grande macchia rossa di cui parleremo tra poco che comunque vi anticipo è un'enorme tempesta e anche come un giro di perle questi ovali bianchi nella parte nell'emisfero sud del pianeta che sono degli enormi vortici e delle tempeste anch'esse ma si chiamano vengono detti tecnicamente ovali allora partiamo dalla una breve carta di identità di Giove allora Giove dista dal sole 5,2 unità astronomiche l'unità astronomica è un'unità di misura che si utilizza per le distanze all'interno del nostro sistema solare un'unità astronomica corrisponde alla distanza terra-sole che è di circa 150 milioni di chilometri quindi se noi diciamo che Giove dista 5,2 unità astronomiche dal sole intendiamo dire che dista 5 volte la distanza che c'è tra la terra e il sole più di 5 volte il diametro di Giove poi è di 142 mila e rotti chilometri all'equatore e minore ai poli il diametro ai poli è di 133 mila 709 chilometri cosa vuol dire? vuol dire che Giove risulta schiacciato ai poli che il suo diametro è più lungo all'equatore quindi presenta questo schiacciamento ai poli che è in parte dovuto soprattutto dovuto alla velocissima rotazione del pianeta infatti alla rotazione su se stessa alla rotazione più alta più veloce scusate di tutto il sistema solare come pianeta in 9 ore e 50 minuti compie un'intera rotazione su se stesso al confronto la terra come sapete impiega 24 ore quindi i giorni su Giove sono molto veloci la rivoluzione intorno al sole di Giove invece dura quasi 12 anni quindi al contrario i suoi anni sono molto molto lunghi la composizione chimica è per l'89% composta da idrogeno l'elemento più abbondante dell'universo e per il 10% di Elio l'altro 1% si divide tra ammoniaca, metano e acqua comunque sono tutti elementi anche tracce di carbonio sono tutti elementi gassosi comunque e è molto simile diciamo come percentuali alla composizione del sole perché come sapete anche la nostra stella è composta per la maggior parte da idrogeno e anche da una percentuale di Elio la densità di Giove Giove ha una densità un pochino superiore a quella dell'acqua 1,319 per 10 alla terza chilogrammi su metro cubo per confronto la Terra ha una densità maggiore ben maggiore essendo un pianeta roccioso equivalente a 5,51 per 10 alla terza chilometri su metro cubo quindi ovviamente non ci stupisce vedere che Giove ha una densità molto bassa essendo gassoso la sua temperatura superficiale media è di meno 121 gradi celsius quindi fa abbastanza freddino e la velocità di fuga ovvero la velocità di cui c'è bisogno per scappare dalla sua attrazione gravitazionale è di quasi 60 km al secondo per confronto la velocità di fuga del pianeta Terra è di 11 circa km al secondo ma anche questo non ci stupisce perché Giove ha una massa che è circa 318 volte la massa della Terra quindi molto più massiccio e la sua attrazione gravitazionale è parecchio maggiore e quindi occorre una velocità di fuga per abbandonare il pianeta molto maggiore Satelliti ne abbiamo direi proprio di sì 79 lune orbitano intorno a questo gigante il pianeta ricordiamo lo più grande del nostro sistema solare e ha quattro anelli quindi come sapete Saturno non è l'unico pianeta del sistema solare ad avere degli anelli ma tutti i giganti gassosi sono provvisti di anelli sia quindi anche Urano e Nettuno ovviamente gli anelli di Saturno sono i più spettacolari e i più belli la magnitudine apparente e media di Giove è di meno 2,60 la magnitudine è una scala di luminosità usata in astronomia e da magnitudine in latino e comunque è una scala della luminosità rovesciata diciamo più i valori sono negativi e più alta è la luminosità quindi Giove con una magnitudine di meno 2,60 è luminosissimo nel nostro cielo e quindi infatti è facilmente visibile anche ad occhio nudo anzi viene spesso scambiato per una stella da tanto è luminoso andiamo avanti diciamo due parole sull'interno di Giove guardando la figura in basso partendo dal centro Giove è composto da un nucleo un nucleo solido composto da ferro e silicati poi da una parte da una zona composta da idrogeno metallico liquido l'idrogeno metallico si ottiene sottoponendo l'idrogeno a una pressione sufficiente a determinare un cambiamento di fase nella materia ed è un esempio di materia del genere l'idrogeno metallico liquido nello specifico è un sistema di protoni ed elettroni liberi dopodiché abbiamo andando verso l'esterno dall'interno verso l'esterno l'idrogeno molecolare e cioè composto l'idrogeno molecolare le molecole di idrogeno sono composte da due atomi di idrogeno e elio liquidi sempre liquidi ma non sono idrogeno metallico quindi semplice idrogeno liquido non è un materiale del genere e poi abbiamo finalmente l'atmosfera come ultimo strato più esterno composta appunto da idrogeno elio ammoniaca metano e da tutti quegli elementi a cui abbiamo accennato prima per confronto possiamo vedere anche qui in scala le dimensioni della terra con le dimensioni di giove parliamo dell'atmosfera allora è sicuramente la caratteristica principale del pianeta perché giove ha un'atmosfera molto turbolenta i sistemi nuvolosi sono organizzati in delle fasce orizzontali lungo il pianeta lungo le varie latitudini e si dividono nelle zone che sono le fasce chiare e nelle bande che sono queste che appaiono più scure perché sopra di esse c'è una minor copertura nuvolosa quindi appaiono più scure l'interazione tra le zone e le bande causa molte turbolenze nel pianeta e dà luogo a tempeste, a ovali, a vortici veramente spettacolari le due principali bande più scure del pianeta sono la banda equatoriale nord NEB dall'acronimo inglese che è la più scura e la più bella praticamente e la banda equatoriale sud posta leggermente sotto l'equatore SEB l'acronimo in inglese che è anche questa ben marcata anche se meno della banda equatoriale nord quando appunto interagiscono queste bande si provocano delle violente tempeste i cui venti raggiungono delle velocità altissime superiori, notevolmente superiori ai 400 km all'ora questo perché? perché dobbiamo ricordarci che l'atmosfera Giove non ruota con un corpo rigido ma subisce una rotazione differenziale come tutti i pianeti gassosi e come anche il nostro sole quindi ruotano a diverse velocità tutte queste, dall'equatore fino al polo nord ruotano a diverse velocità questi gas e quindi si possono sovrapporre, scontrare e danno origine ai fenomeni più vari ma tutte queste bellissime foto che abbiamo di Giove e che fra poco vi farò anche vedere chi ce le ha procurate? la missione Juno la missione Juno è una missione della NASA che attualmente appunto sta lavorando è stata lanciata questa sonda il 5 agosto 2011 ed ha viaggiato per il nostro sistema solare per 5 anni prima di arrivare a Giove è arrivata infatti nel 2016 e si prevede che questa missione continui diciamo a funzionare regolarmente fino a luglio 2021 doveva essere più breve ma è stata estesa una curiosità a bordo della sonda Juno c'è una targa dedicata a Galileo Galilei lo scienziato italiano una targa di alluminio che riproduce la prima descrizione il primo scritto che Galileo fece quando per la prima volta osservò al telescopio nel 1609 con il suo cannucchiale Giove con i suoi satelliti e quindi questo è stato un omaggio che si è voluto fare allo scienziato italiano e questa targa è stata procurata dall'ASI l'agenzia spaziale italiana è stata l'ASI che l'ha donata alla NASA la quale appunto l'ha fatta partire insieme alla missione Juno e Juno tra l'altro la particolarità di questa missione è che viaggia cioè le sue orbite sono delle orbite polari del pianeta questo è molto importante perché non avevamo mai osservato con così alta risoluzione i poli del pianeta e adesso abbiamo potuto farlo il polo sud e il polo nord e ci ha regalato delle visioni sembrano dei quadri astratti la fotocamera la JunoCam installata sulla sonda Juno ci sta regalando delle fotografie meravigliose e guardate qua delle sezioni del pianeta e potete vedere sembrano veramente dei quadri astratti a parte i colori meravigliosi che derivano appunto da tutti i composti chimici dell'atmosfera gioviana ma anche le turbolenze dovute allo scontro e alla sovrapposizione tra le zone e le bande e le tempeste che si formano e quindi danno vita a dei particolari veramente molto molto belli qui vi parlavo dei vortici polari ecco guardate qui abbiamo un confronto tra l'immagine a sinistra della sonda Cassini ripresa nel 2000 del polo sud di Giove e la sonda Cassini è una sonda che il suo target era lo studio del pianeta Saturno però è passata vicino a Giove e ha fotografato anche Giove invece a destra guardate l'immagine del polo sud di Giove visto da Juno a un'altitudine di 52.000 km guardate queste caratteristiche ovali sono tutti dei cicloni che possono avere fino a 600 km di diametro e queste sono tutte immagini acquisite con lo strumento JunoCam che è sulla namicella, sulla sonda ma è una sovrapposizione di immagini che sono state prese su varie orbite separate e poi sono state combinate insieme il colore è migliorato per ammissione della NASA quindi un po' di falsi colori ci sono e sono immagini zoomate comunque sono tutte immagini zoomate la grande macchia rossa Great Red Spot in inglese GRS è una tempesta anticiclonica posta a 22 gradi a sud dell'equatore di Giove le sue dimensioni sono variabili come dimensioni a circa 24.000 km da ovest a est diciamo di larghezza e di altezza diciamo così dai 12.000 e 14.000 km dal sud al nord ha la forma di un ovale ha una forma ellittica ma si sta riducendo e si presume che diventerà più tondeggiante in futuro ruota in senso anti-orario con un periodo di 6 giorni terrestri che corrispondono a 14 giorni gioviani date le sue dimensioni potrebbe contenere circa 2 terre infatti vedete qui in basso questa vedete qui in basso questa immagine ovviamente questa è un'immagine di fantasia invece a destra è un'immagine vera della grande macchia quindi che cos'è? è una tempesta che è stata vista sin dai tempi di Galileo sin dal 1600 quindi va avanti da centinaia di anni ma abbiamo detto che si sta riducendo e si stima che nei prossimi cento anni forse anche meno si possa veramente ridurre molto perché si sta già riducendo di più di mille chilometri all'anno e guardate qua la macchia rossa che si scontra con le bande di Giove e provoca tutte queste turbolenze e queste sì, queste turbolenze bellissime proprio sembrano veramente dei quadri astratti sotto la grande macchia abbiamo che è di colore rosso abbiamo di colore bianco questi che vengono chiamati degli ovali in realtà poi gli ovali si possono scontrare e per accumulo si possono formare degli ovali più grandi in particolare c'è un ovale molto famoso chiamato l'ovale BA che è nato dallo scontro di tre ovali più piccoli che si sono scontrati nel 2009 qua abbiamo una fotografia spettacolare secondo me veramente molto bella è una delle mie fotografie preferite è una foto della missione Juno presa sul sito della NASA dove si vede un dettaglio della grande macchia rossa e si vede l'ombra di Io Io è il satellite più vicino di Giove l'ombra di Io che si staglia sulla macchia rossa qui vedete il pianeta Io è già spettacolare perché si vedono anche i colori del pianeta è uno dei satelliti più colorati del sistema solare perché ha una forte attività geologica di vulcanismo quindi la lava lo colora di mille colori e quindi si vede molto bene il satellite Io e la sua ombra sulla macchia rossa oltre ai dettagli diciamo delle tempeste di cui avevamo parlato prima e delle turbolenze atmosferiche veramente molto bella questi invece sono gli ovali gli ovali di Giove e in particolare questa foto di destra mostra la grande macchia rossa e sotto l'ovale B.A. di cui vi parlavo che è un ovale nato dallo scontro di tre ovali nel 2009 sotto altri ovali bianchi e qui abbiamo anche la piccola macchia rossa anzi scusate l'ovale B.A. è soprannominato la piccola macchia rossa e qui abbiamo un'altra piccola la macchia rossa neonata comunque tutte queste formazioni sono molto instabili e poi tendono a dissolversi ad aumentare a scomparire solo la macchia rossa diciamo è quella più stabile di tutti abbiamo a proposito di formazioni e della magnifica atmosfera gioviana qui una curiosità abbiamo il delfino di Giove ovviamente non è un vero delfino ma è solo una illusione ottica in particolare si vede molto bene nella fotografia qui sotto in basso vedete proprio sembra un delfino questa questa turbolenza sembra un delfino con la sua pinna sopra il suo muso addirittura l'occhio è veramente molto carino ed è diciamo è semplicemente una turbolenza che si sta scontrando con le altre qui sopra a sinistra si vede si vede un'altra formazione simile ovviamente è stata ecco questa linea arancione che la contorna invece è stata aggiunta al computer questa linea arancione per far vedere la forma di pesce diciamo di questa turbolenza qui a destra c'è la stessa figura in alto senza la linea arancione che la demarca comunque sono immagini molto belle questi dettagli sono veramente spettacolari ci ha regalato la sonda a Juno e un altro fenomeno molto importante di Giove sono le aurore le aurore polari qui ce n'è una spettacolare bellissima Giove ha un campo magnetico enorme e che intrappola tutte le particelle cariche che arrivano sia dal nostro sole sia anche da io il suo satellite più vicino che ha delle eruzioni vulcaniche così potenti che delle particelle cariche riescono a lasciare l'atmosfera del satellite e vengono catturate dalla magnetosfera di Giove e vengono convogliate al polo nord del pianeta dove si scontrano queste particelle cariche con l'atmosfera e si formano queste meravigliose aurore come le nostre aurore boreali che conosciamo e che ammiriamo soltanto molto molto più potenti anche questa foto è bellissima si vedono le bande benissimo la macchia rossa e gli ovali una curiosità gli ovali sono molto più praticamente quasi tutti si trovano nel polo sud del pianeta sotto l'equatore e gli anelli allora anche Giove dicevamo ha degli anelli questa è un'immagine vera non è un'elaborazione al computer è un'immagine vera e mi piaceva tantissimo perché la trovo molto simbolica quasi da film dell'orrore The Circle mi vengono in mente film così comunque ho messo mi piaceva mettere questa frase di Tolkien tratta dal Signore degli anelli un anello per domarli un anello per trovarli un anello per ghermirli e nel buio incatenarli stava bene con questa foto anche Giove ha gli anelli non ha niente da invidiare a Saturno diciamo forse vi sarete accorti che Giove è il mio pianeta preferito per questo che vi sto facendo questa sviolinata ma comunque questa è un'altra foto in dettaglio di Giove e i quattro anelli di Giove sono partendo dall'anello più interno più vicino al pianeta sono l'anello di Alone l'anello principale e poi andando verso l'esterno c'è l'anello Gossamer interno che in inglese vuol dire Garza l'anello interno di Amaltea e l'anello esterno di Tebe Amaltea e Tebe sono dei piccoli satelliti di Giove che si trovano proprio in mezzo a questi anelli e noi diciamo sempre che Io è il satellite più vicino a Giove in realtà è il satellite più grande più vicino a Giove perché più vicino a Giove ci sono ben quattro piccoli satelliti tra cui Amaltea e Tebe che sono si trovano all'interno dei suoi anelli questa è una foto di Giove e invece con gli anelli però gli anelli questa è una ricostruzione al computer ma la foto del pianeta del corpo del pianeta è vera e dovrebbero apparire più o meno così ovviamente questi anelli sono composti da polvere da silicati molto polverosi composti da polvere da silicati da ghiaccio ma molto meno dei satelliti di Saturno che hanno veramente molto più ghiaccio al loro interno parliamo brevemente degli altri satelliti di Giove di sua vasta Giove e la sua corte qui abbiamo non in scala non in scala rispetto al pianeta perché Giove dovrebbe apparire molto molto più grande di questi satelliti i suoi quattro satelliti Io, Europa, Ganimede e Callisto che sono le quattro lune principali di Giove le vediamo bene qui sono detti i satelliti galileiani perché furono scoperti appunto da Galileo Galilei nel 1609 quando per la prima volta puntò il suo canocchiale verso Giove e lui li dedicò li chiamò satelliti medicei in onore della famiglia Medici dedicò a loro questa scoperta in ordine di distanza dal pianeta Giove troviamo Io, Europa, Ganimede e Callisto ognuno di queste quattro lune ha una particolarità delle grandi particolarità secondo me sono i satelliti più interessanti di tutto il sistema solare Io è il più geologicamente attivo ed è coloratissimo sembra quasi una pizza dico sempre perché ha questi colori giallo, verde, rosso, bianco tipo mozzarella e quindi è molto attivo perché è così attivo geologicamente? perché subisce le forze mareali di attrazione del pianeta di Giove che scaldano che comprimono il suo nucleo periodicamente lo comprimono e poi si riallarga e quindi si scalda l'interno di Io si scalda poi abbiamo Europa che è un mondo ghiacciato ed è il più interessante forse di tutti perché si è scoperto che sotto la superficie ghiacciata di Europa si estende un grande oceano di acqua salata e quindi le prossime missioni c'è in programma una missione importantissima della NASA e anche dell'ESA che si chiamerà Giuris che visiterà partirà nei prossimi anni e visiterà Europa Ganimede e Callisto Ganimede è il satellite più grande del sistema solare in assoluto e più grande anche del pianeta Mercurio e anche esso sotto la sua superficie ha un oceano di acqua liquida e anche Callisto è il satellite più esterno e notate come è completamente craterizzato perché essendo il più esterno poverino si becca tutte le comete che Giove attira o i corpi che vengono attirati dalla gravità di Giove poi finiscono anche su Callisto Scusa Alessandro c'è una domanda da Zoom gli ovali che sono a sud di Giove sono le cicatrici della cometa? No, gli ovali che sono a sud di Giove non sono le cicatrici della cometa anche se la cometa Schumacher ha lasciato dei segni su Giove che sono stati visti ci sono delle cicatrici scusate ma non sono questi ovali che vi ho fatto mostrare sono molto molto più piccole e sono nere i segni della cometa sono neri e non sono bianchi come gli ovali passiamo a Saturno una piccola carta di identità di Saturno dista 9,6 unità astronomiche dal Sole quasi il doppio di Giove vi ricordate Giove distava 5,2 unità astronomiche anche Saturno è composto per il 95% di idrogeno il 3% di elio acqua, metano e ammoniaca il nucleo di Saturno è composto da silicate e da ghiacci è avvolto da uno strato di idrogeno metallico come il nucleo di Giove e poi da uno strato esterno gassoso la sua temperatura superficiale è meno 186 gradi quindi inferiore fa più freddo che su Giove e i suoi venti sono più forti dei venti di Giove perché se i venti di Giove possono superare i 400 km all'ora quelli di Saturno arrivano fino a 1800 km orari sono superati soltanto dai venti di Nettuno perché pare che sul pianeta Nettuno ci siano i venti più forti del sistema solare che possono arrivare anche quasi a 2000 km all'ora Saturno batte Giove anche per il numero di satelliti ne ha 82 contro i 79 di Giove gli anelli di Saturno sono composti da ghiaccio da polveri da piccoli sficati da materiali ferrosi hanno in tritte carbonica ghiacciata e le dimensioni di questi frammenti sono piccolissimi vanno dal micrometro al metro vi ricordo che un micrometro è un milionesimo di metro quindi da un milionesimo di metro fino a un metro e lo spessore degli anelli di Saturno è incredibilmente sottile si parla di circa 10 metri il periodo orbitale di Saturno è quasi 29 anni e mezzo quasi 30 anni praticamente ci mette a fare un giro completo intorno al sole e la rotazione di Saturno è più o meno simile a quella di Giove un po' più veloce 10 ore e mezza ci mette Saturno per ruotare su se stesso Giove ruotava in meno di 10 ore quindi anche Saturno presenta uno schiacciamento ai poli come lo presenta Giove e la densità ecco qui c'è una curiosità Saturno ha una densità inferiore a quella dell'acqua 0,68 per 10 alla terza chilogrammi su metro cubo la Terra qui abbiamo sempre il confronto con la densità della Terra quindi cosa vuol dire questo che ha una densità inferiore a quella dell'acqua vuol dire che se noi potessimo se fosse possibile mettere Saturno immergere Saturno in un grande oceano più grande di lui Saturno galleggerebbe ovviamente ciò non è possibile però la sua densità è minore di quella dell'acqua la magnitudine apparente di Saturno è 0,7 molto più alta di quella di Giove vuol dire che il pianeta è meno luminoso di Giove però comunque una magnitudine apparente di 0,7 è di tutto rispetto infatti anche Saturno è visibilissimo a occhio nudo sì volevo dire un'altra cosa sulla magnitudine ecco volevo farvi vedere questa foto di Saturno è fatta dalla è stata fatta dalla missione Cassini-Eugens che ci ha regalato delle fotografie meravigliose vi faccio vedere qua queste foto della missione Cassini per farvi vedere apprezzare la posizione degli anelli del pianeta Saturno che può variare che può cambiare a seconda della posizione del pianeta ovviamente Saturno l'asse di rotazione di Saturno è inclinato rispetto all'eclittica ovvero rispetto al piano della sua orbita quindi anche gli anelli sono inclinati risultano inclinati lungo l'equatore di Saturno inclinati come il pianeta e a seconda della posizione di Saturno sulla sua orbita a seconda anche della nostra posizione della Terra noi li possiamo vedere da un certo punto di vista o da un altro guardate ecco vi ho messo questa foto di Saturno bellissima perché si possono vedere anche qui le famose aurore di Saturno perché anche Saturno come Giove ha delle aurore molto molto belle perché anche comunque il campo magnetico di Saturno è anch'esso grande vediamo qui tra l'altro negli anelli la divisione di Cassini c'è una divisione tra gli anelli marcata chiamata così dal nome dell'astronomo italiano Gian Domenico Cassini che la scoprì nel 1675 ed è una e separa gli anelli più brillanti del pianeta l'anello B all'interno e l'anello A all'esterno in realtà gli anelli sono molti di più ecco qui c'è un'altra foto stupenda di Saturno con davanti il suo satellite titano il più grande satellite di Saturno e qui vedete che gli anelli per effetto prospettico sembrano quasi sparire sembrano una lama una lamina contro il pianeta però si vede la loro ombra nel polo sud del pianeta molto bella questa è un'altra foto iconica che è molto famosa della missione Cassini-Huygens e Saturno che eclissa il sole il sole si trova dietro il pianeta e illumina tutti i suoi anelli questa foto è diventata famosa è una delle foto più belle ricordiamo che la missione Cassini-Huygens si è conclusa nel 2017 con la tragica fine della sonda Cassini che è stata fatta schiantare diciamo così su Saturno anche se schiantare non è proprio il termine corretto in quanto che abbiamo detto Saturno non ha un'atmosfera solida ma si è immersa nell'atmosfera di si è immersa nell'atmosfera di Saturno e quindi ha studiato un po' ha mandato dei dati e poi ovviamente ovviamente è morta diciamo una domanda che viene da Facebook come si fa a misurare la velocità di questi venti su questi pianeti così lontani? come si fa? bella bellissima domanda come si fa a misurare la velocità di questi venti? bene noi conosciamo il diametro di Giove e misuriamo e sappiamo anche quant'è il suo tempo di rotazione abbiamo visto che è di 9 ore e 50 meno di 10 ore e quindi conoscendo il diametro e conoscendo la velocità di rotazione noi vediamo quanto tempo ci mettono le turbolenze a spostarsi e possiamo misurare in questo modo la velocità dei venti questo detto in termini semplici senza addentrarsi nei dettagli tecnici però bellissima domanda giusto? andiamo avanti ecco qui possiamo vedere meglio gli anelli di Saturno che vi dicevo che sono tantissimi noi li vediamo come un corpo unico rigido solo perché siamo molto lontani e brillano tantissimo pur essendo così sottili soltanto perché sono composti prevalentemente da ghiaccio e quindi hanno un alto albedo un'alta riflettività e riflettono benissimo la luce del sole e si rendono molto luminosi e spettacolari però in realtà sono composti da tutte queste piccole particelle o sassi queste sono delle illustrazioni di fantasia ovviamente che però ci fanno rendere conto di come potrebbero essere visti da vicino questi anelli del pianeta Saturno concludiamo parlando di un'altra particolarità alcuni satelliti di Saturno vivono tra i suoi anelli e vengono chiamati i satelliti pastore si definiscono satelliti pastore si definisce satellite pastore un satellite che con la sua particolare orbita in prossimità di un anello contribuisce a mantenerlo in equilibrio pur modificandone la forma praticamente e anche l'estensione attraverso meccanismi di interazione gravitazionale contribuisce anche a creare le numerose divisioni che ci sono tra un anello e l'altro e questi satelliti pastore di Saturno per esempio sono partendo dal basso pan che ha la forma veramente di un panino al salame io non ci volevo credere quando l'ho visto è veramente una forma particolare probabilmente ha subito vari scontri Daphne, Pandora, Epimeteo, Atlas sono tutti satelliti che appunto contribuiscono a creare queste divisioni e a mantenere gli anelli in equilibrio benissimo allora io vi ringrazio chiudo qua scusatemi se sono andata un po' lunga grazie a tutti quanti per l'attenzione continuiamo la serata con altre cose video di Franco molto interessanti andrei a parlare un attimino di congiunzione molto velocemente vi faccio giusto vedere che cos'è vi condivido subito il mio schermo questo sarebbe il momento in cui vi chiediamo di uscire sul balcone ma tanto vabbè almeno qua il salone è molto lungolo quindi non si vedrebbe nulla ma come diceva all'inizio abbiamo un po' barato perché in questo momento i pianeti sono tramontati e quindi grazie alla tecnologia io cerco di farvi vedere che cosa c'era in cielo qualche ora fa ok? quindi se io qua torno indietro un attimino nel tempo ecco qua che spuntano dall'orizzonte Giove e Saturno come vedete già oggi che il 18 sono già molto vicini guardate quanto devi ingrandire prima di andarli a risolvere entrambi ok? qual è l'evento che si verificherà fra qualche giorno? facciamo passare il tempo vedete che domani che il 19 saranno ancora più vicini il 20 ancora di più e il 21 che è il giorno della congiunzione saranno vicinissimi con questo software possiamo anche approssimativamente vedere più o meno qual è la distanza angolare la distanza angolare è di soli 6 primi di grado ok? quindi un grado già è più o meno la dimensione della luna mezzo grado un grado non mi ricordo esattamente sei primi di grado è un decimo quindi questi due pianeti formeranno quasi a occhio nudo un'unica stella nel cielo speriamo che non sarà nuvolo qui soprattutto qua da noi e così me la posso vedere anch'io perché è così stupefacente questo evento? ma è così stupefacente per la sua rarità per trovare una congiunzione così vicina bisogna andare indietro di circa 800 anni non è che i Giove e Saturno vanno in congiunzione ogni 800 anni vanno in congiunzione circa ogni 20 anni scarsi il problema è che queste congiunzioni non sono così vicine quindi cosa si intende per congiunzione? si intende quando i due pianeti sono entrambi visti sotto lo stesso meridiano dalla Terra mettiamola così quindi sono allineati sullo stesso meridiano quindi se io mi sposto di circa una ventina d'anni e vado a cercare di nuovo Giove adesso è sotto l'orizzonte ma basta far passare un po' di ore e lo vedremo spuntare nel cielo vedete che Giove e Saturno qui sono di nuovo vicini quindi facendo passare il tempo vediamo che vanno in congiunzione però la loro distanza adesso qua lo fanno persino sotto terra quindi da noi non sarebbe visibile ma togliamo la Terra dai... vedete che la loro distanza è ben superiore alla congiunzione che c'è quest'anno vediamo se riusciamo a misurarla vi ricordate erano sei primi di arco qua siamo ben oltre un grado un grado e undici primi ok? quindi circa dodici volte più distante di quanto non saranno fra tre giorni come dicevo l'altra congiunzione bisogna andare indietro nel tempo e andare fino al 1226 mi sono scritto la data qua il 3 maggio cerchiamo di nuovo Giove eccoli qua Giove e Saturno sono di nuovo vicinissimi la distanza in questo caso era di soli due primi d'arco quindi il 1226 ci ha battuto noi adesso abbiamo sei primi nel 1226 era un terzo la distanza tra due pianeti quindi probabilmente non erano veramente distinguibili a occhio nudo l'uno dall'altro quindi l'evento è così spettacolare perché appunto porta questi pianeti veramente a sembrare un unico punto nel cielo e perché loro si incontrano ogni vent'anni ma solo rarissimamente sono così vicini ma perché le orbite dei pianeti che ruotano intorno al sole non sono perfettamente complanari cioè i pianeti, il sistema solare ruota un po' tutto sullo stesso piano però questi piani di rotazione, di rivoluzione dei pianeti sono leggermente inclinati e questo fa in modo che quando i pianeti noi li vediamo in congiunzione non è detto che siano sempre alla stessa distanza ovviamente relativa come diceva l'Alessandra questi pianeti non si incontrano fisicamente è solo uno scherzo prospettico di noi che vediamo due oggetti l'uno più distante dell'altro che ci sembrano sovrapporsi solo per un gioco appunto di banale prospettiva e un'altra curiosità che vi voglio far vedere che è molto particolare è il cosiddetto moto retrogrado io seguivo già questi pianeti da circa da agosto di quest'estate e vedevo che appunto si stavano vabbè vedevo poi mi sono documentato che si stavano avvicinando però stava succedendo una cosa un po' un po' particolare adesso vi cerco di farvela vedere sempre con questo software di planetario allora io faccio passare i giorni abbastanza velocemente e fisso in cielo non fisso giove ma fisso una stellina quindi vorrei fissare nel cielo tenere ferma una stella sullo sfondo e vediamo che cosa succede allora levo la terra sempre per semplificare un po' le cose vedete che se io qua sto andando indietro nel tempo andando avanti nel tempo tutti i pianeti quindi la luna magari rimpicciolisco un filino si muovono tutti i sensanti orario mentre giove e saturno no perché questo vedete che giove e saturno si stanno muovendo si stanno muovendo in modo contrario a quello con cui si muovono normalmente i pianeti esterni rispetto alle stelle fisse vedete che sembra che si fermino e poi tornino indietro in un'altra direzione questo fenomeno si chiama moto retrogrado e ha sempre incuriosito l'uomo l'uomo ha sempre osservato il cielo e per spiegare questo questo modello nell'antica grecia c'era un sistema che era sistema tolemaico io adesso ho rubato un video su youtube vi faccio vedere una piccola animazione vedete questa qua era la spiegazione del sistema tolemaico cioè il sistema tolemaico vedeva la terra al centro del al centro dell'universo e quindi per spiegare questo strano comportamento dei pianeti doveva usare questo sistema di epicicli e deferenti cioè un sistema molto complicato cioè questi pianeti ruotavano in quel cerchio più piccolo che a sua volta ruotava in un cerchio più grande che ruotava intorno alla terra perché la terra era al centro di tutto poi con Copernico questo modello è stato sostituito da un modello dove al centro della rotazione del sistema solare c'è stato messo il sole e a questo punto questo gioco che qui viene disegnato in rosso del pianeta che sembra tornare indietro rispetto al suo moto si vede in questo caso con Marte che è semplicemente un gioco prospettico della terra che sta superando angolarmente il pianeta Marte e quindi noi che siamo sulla terra lo vediamo tornare indietro per un certo periodo di tempo fino a quando poi non lo superiamo e poi lo vediamo tornare nel suo moto normale non è una cosa proprio banalissima però è abbastanza curiosa e avevo piacere di farvela vedere bene io a questo punto se non avete domande su questo argomento lascerei subito la parola a Franco che ci farà vedere e ci spiegherà quando e come ha fatto le foto della congiunzione queste qua non saranno foto diciamo estetiche ma sono solo foto che vogliono far vedere come questo fenomeno sia visibile già con strumenti alla portata di tutti grazie allora la nostra intenzione era quella di documentare giorno per giorno in questo periodo l'avvicinamento che gli ha fatto appena vedere Marco col planetario noi avremmo voluto desiderato farlo vedere con delle immagini prese direttamente col telescopio però il cattivo tempo ci ha messo il bastone tra le ruote per cui sono riuscito a fare riprese soltanto il giorno 10 di dicembre e 13 di dicembre e adesso vi andrò a far vedere intanto il giorno 10 erano ancora piuttosto lontani tra di loro erano a poco più di un grado per cui ho dovuto usare questo telescopio che è un piccolo telescopio un rifrattore che ha una lunghezza focale di 480 mm e che permette di ottenere un campo visivo abbastanza ampio da poter inquadrare tutti e due i pianeti nello stesso campo poi il giorno 13 si erano già avvicinati erano a 53 primi l'uno dall'altro allora ho potuto cambiare il telescopio usare questo che ha una lunghezza anche se è molto compatto però ha una lunghezza focale nominale di 2 metri per un gioco di curvatura degli specchi che lo compongono e con questo ho potuto sempre inquadrarli nello stesso campo però con la resa che si vedono un po' più grandi ecco il primo video che ho fatto ho fatto dei video in modo che si possa si potesse avere la sensazione che sia mettendo l'occhio all'oculare di un telescopio qui avevamo Saturno molto piccolino sull'angolo di sinistra e Giove già che si travede con i suoi satelliti galileiani qui in basso poi questo il giorno 10 e sempre il giorno 10 usando un programma che permette di ottenere un ingrandimento virtuale pur utilizzando la stessa ottica ho potuto ingrandire di 5 volte quello che mi rendeva il telescopio e poter inquadrare meglio Giove che qui in questo caso lo vedete sovraesposto perché è molto luminoso e l'ho volutamente sovraesposto per poter mettere in evidenza i quattro satelliti che in quel giorno erano tutti sulla sua destra poi andando avanti mi sono poi portato su Saturno per vedere come si poteva ingrandire ho ottenuto questo piccolo risultato perché con l'ottica sempre che vedete qui in alto 480 anche se a 5 volte ingrandita si ottiene una focale 2004 che non è ancora sufficiente per poter vedere qualche dettaglio comunque già si poteva intuire il globo al centro e gli anelli quantomeno la forma ovale ecco da notare la turbolenza vedete questo effetto di che si vede l'immagine continuamente che si muove questa è causata dalla turbolenza dell'atmosfera che è tanto più evidente quanto l'oggetto che si vuole inquadrare è basso sull'orizzonte perché logicamente il fascio di luce che arriva a noi attraversa uno spessore maggiore di atmosfera e questa essendo in continuo movimento per i suoi sbalzi di temperatura tra i vari strati provoca proprio una deviazione della luce per cui noi lo vediamo come se fosse una pentola che bolle questo è il motivo per cui è stato lanciato in orbita il telescopio spaziale perché quello essendo al di fuori non soffre assolutamente di questi problemi e ci ha regalato immagini straordinarie allora possiamo andare avanti qui passiamo al giorno 13 quindi ho usato quel telescopio un po' più potente che ho dovuto comunque ridurre perché la focale piena sarebbero 2.002 metri ho dovuto ridurre inserendo un gruppo ottico a farlo diventare come se fosse 1260 mm perché altrimenti non li avrei inquadrati nello stesso campo comunque a questa focale si vede un po' meglio l'ovale di Saturno e un po' meglio i satelliti che in quel caso erano in quel giorno erano tre da un lato e uno dall'altro che ora vedremo meglio proseguendo ecco adesso io ho mantenuto l'immagine diciamo il video così come l'ho girato ho spostato l'inquadratura ho spostato materialmente l'inquadratura col telescopio ho portato Giove al centro dell'inquadratura Saturno logicamente è sparito per poterlo poi ingrandire e averlo al centro al centro sia sempre una resa maggiore perché si eliminano le ulteriori distorsioni che può dare il telescopio ecco questo è il risultato ingrandendo quel telescopio che è un catadiotrico non c'è l'estronciotto l'ho portato a una focale equivalente di 6.300 mm 6.30 mm Giove sempre sovraesposto per poter vedere i satelliti un po' meglio e noi se lo facciamo scorrere e cerchiamo un punto ecco si bisogna trovare il fotogramma dove c'è la turbolenza era minore e si intravedono quasi i dischetti dei satelliti che erano in quell'occasione disposti così come leggete Calisto, Europa, Io e Ganimede era dall'altra parte mentre il giorno 10 Ganimede era qua il movimento dei satelliti è piuttosto rapido perché io compio una rotazione in poco meno di due giorni Europa in 85 ore, Ganimede in 17 giorni e Calisto che è più lontano in 17 giorni per cui guardandolo ogni giorno e anche ad ore differenti nello stesso giorno si può apprezzare la loro danza intorno al pianeta lasciamo andare avanti il video ecco questa è la sensazione che si avrebbe guardando il telescopio all'oculare ecco, ora io ho ridotto volutamente l'esposizione per cercare di, sono spariti quindi sono spariti dalla vista i satelliti per cercare di capire qualche dettaglio e si intravede appena appena la banda Nord perché essendo così bassi come dico la turbolenza è eccessiva tant'è vero che quando i pianeti sono così bassi gli astrofotografi non tentano neppure di fare delle fotografie perché sanno che anche se hanno una dotazione abbastanza sofisticata il risultato sarà sempre scadente ora passiamo al prossimo ecco sempre quella sera lì ho portato su Saturno guardate come sembra che bolla e ho cercato sempre con quell'ingrandimento a 6.300 di prendere qualche dettaglio anche qua bisogna cercare il fotogramma dove è un po' più fermo comunque si intravede il globo, i suoi anelli e la zona tra il globo di Saturno e gli anelli la separazione facciamo scorrere ecco qui mi sono di nuovo rifocalizzato con Giove ho messo un altro sistema di abbinamento lenti e telescopio per cercare ho introdotto una lente cosiddetta di Barlow si intravede un po' meglio forse la banda Nord ma niente di che perché purtroppo qui la vince la turbolenza atmosferica invece quest'estate quando era un po' più alto avevo tentato sempre quest'impresa era sempre comunque abbastanza basso però era più alto di quello che è in questi giorni e in questa ripresa che è fatta un ingrandimento ancora superiore si intravedono già meglio le due bande le due fasce e la macchia rossa che era qua in questa posizione qua poi da questo video estraendo i fotogrammi migliori con appositi programmi vengono sommati ho sommato i fotogrammi migliori come dicevo e da questo è venuta fuori una foto che non è certa ai livelli di quelle professionali però che adesso vi faccio vedere ecco ho tirato fuori questa si mettono un po' meglio le bande la la macchia rossa e due satelliti che in quell'occasione erano Europa e Ghanemedi che erano molto vicini prospetticamente a Giove e dopo tutti in mortavanti ecco e niente a questo punto non avrei altre cose da potervi far vedere perché come ho detto non ci sono state occasioni particolari per per poter fare ulteriori video speriamo nei prossimi giorni che vada meglio ma sembrerebbe proprio di no e quindi a questo punto ripasso la parola a Marco grazie grazie Franco grazie del lavoro che hai fatto nel frattempo sono arrivate un po' di domande una che chiede come sarà la congiunzione fra 800 anni e niente rispondiamo andando a vedere grazie per la domanda comunque così mi sono andato a a fare no sto scherzando è stato molto divertente andarla a cercare e la prossima sarà quella lì tra 800 circa anni sarà nel 2815 e cinque anni in meno perché nel 2820 perché loro si incontrano vi ricordate ogni 20 anni scarsi vanno in congiunzione andiamo a vedere la curiosità di misurare quanto sarà quindi leviamo la terra come facciamo di solito quanto andranno vicino questi due pianeti 2815 me lo sono scritto qua ok vedete che si stanno avvicinando eccoli qua la congiunzione è il 22 febbraio 2815 possiamo andare a misurare quanto sono vicini vi ricordate questa volta erano sei primi dieci primi quindi nel 2815 ci sarà di nuovo una congiunzione giove saturno molto molto bella però non bella come la nostra e ho cercato se la fai Marco ce la fai arrivare a 7541 non sto non sto condividendo questo potrebbe essere questo potrebbe essere un problema quindi fra 800 anni e 2815 scusate non condividevo lo schermo ed è dieci primi ed è questa qua e poi invece bazzicando un po' su internet mentre Franco parlava ho visto che ce n'è una nel 2417 ad agosto il 24 agosto che sarà di a cinque primi circa quindi leggermente più vicina di quella che abbiamo noi adesso speriamo che sia sereno se no non la vediamo eh sì eh sì puoi andare avanti ancora di tanto? posso andare dove voglio provai 7541 perché ci sarà un'occultazione ci sarà un'occultazione la segniamo in agenda? sì eccola qua l'occultazione l'occultazione invece è una è una congiunzione ancora più spinta vedete Giove e Saturno si stanno avvicinando sempre prospetticamente e passeranno non mi dice la data non passano 7541 non dice il giorno è sul sito di Scara in Telescope ah magari non è non è qua vedete che danza fanno in cielo adesso bisogna perdere un po' di tempo per andare a cercare che cosa succede? intanto se metto la montatura equatoriale ci viene un po' meno mal di mare eh vedete che si passano molto vicini ma non ma non occultano e forse c'è una congiunzione tripla o forse una congiunzione tripla apparentemente si condividano i satelliti bellissimo sì sì ma direi che ormai Saturno è scappato andiamo avanti con la serata andiamo verso la conclusione grazie a Franco ora vi faccio vedere un altro video prodotto da un nostro socio del gruppo Astrofili Savonesi Fabrizio Biancardi che anche lui ha fatto una ripresa ha montato un brevissimo filmato dove cerca di spiegare anche lui che cos'è la distanza apparente la distanza angolare sotto cui vediamo i pianeti e che cosa succederà nei prossimi giorni un po' quello che abbiamo fatto noi col planetario adesso reale vi mando il video e buona visione per ora tra le prodotti vediamo i ancora i versi l'unico che vi vediamo i vediamo insieme per la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, sia ai soci del gruppo Astrofili Savonesi che ai soci dell'Associazione Polaris. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.